calci di regole l'ultimo entrambi le squadre hanno dominato ora vediamo chi andrà in seconda finalista insieme alla Juventus scusate se parlo un po' piano ma sono le 11 18 le 11 sono le 11 di sera quindi parlerò piano è piano tantissimo l'olimpico ora vediamo chi batterà per primo i rigori ok primo caccio di regole immobile mamma mia immobile primo rigore quindi lo segno immobile immobile rigore per il mio buco è la prata donna rodriguez chiezzo rodriguez ragazzi non è meglio dai mamma mia rodriguez mamma mia che figura di merda rodriguez comunque il secondo rigore che sbaglia mamma mia guarda che deficiente ma sappiamo un deficiente ovunque mamma mia si si esulta esulta albanese del cavolo merinkovic è donna ruma la lazio non è andata in finale mi piace tanto che non è andata in finale grande donna ruma mamma mia la propria presa la propria presa la propria presa montolivo 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 ma mamma mia oh io in fondo è strepitoso c'è culo sto portiere oh mamma mia c'è culo sto portiere non è forte il culo ecco che già è anche un po' culo esulta 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 deficiente albanese che si merda che io sotto io mi faccio uscire le palete agli occhi dai 2-0 mamma dai segno vai finale vai 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 tira e la madonna ragazzi ragazzi dove la madonna ragazzi stanno attaggialati no eh sì eh sì bello bello mio sta diventando sta nevicando quindi ok l'olimpico sta nevicando sta cominciando a nevicare gattuso sta nevicando quindi quindi tampone dovrebbe nevicare buonaventura 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 mamma mia buonaventura una 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 eh parolo parolo contro donna ruma donna ruma non si muove e la razza fa 2-1 a rigori donna ruma non si muove immobile si risulta napoletano non sa bert ma che tesurti non te dai ma i capelli non te togli ti tagli ma i capelli dai borini 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 ma è una sospenza infinita regione proprio una sospenza però infinita felipe anderson storiccione dai immobile donna ruma ma ma che cacchio fare borini borini or di arrivare borini la razza borini come la razza che lo di che lo di borini Bonucci Si decide tutto 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 Bonucci 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 ragazzi Signato Bonucci Mamma mia Guardate Eh vabbè questo è il Unice Sto Unice Stonano Stogniamo Guarda Guarda se sbagli Guarda se sbagli Ciannoplu Se non sai tu che stai Dica bene Che stai Dica Secondo me Bene pure i rigori Secondo me Guarda Ciannoplu Vedi che devi fare Perché Qua in casa No Sto Sto Piano sotto Ciannoplu Mamma mia Sembrava che sei sbagliato Mamma mia Luis Felipe Luis Felipe Adesso dire Adesso dire Luis Felipe Adesso Luis Felipe Luis Felipe Ramos Ma che cacchio Te conosce Non sei Manco Buon a tirare i rigori Ma chi te lo conosce Sì Il gioiellino Ora dire Ragazzi ora dire Ora dire Romagnoli Se segna Se dispera Se segna Se dispera Perché ragazzi Romagnoli È anche Laziale Quindi si assegna Non esulta Eh Si deluderà Romagnoli Non è esultato Mamma Eh Il gioie mio Mi dispiace Eh Succede Succede Mamma mia E quindi ragazzi Meno male Meno male Ragazzi Mamma mia Mamma mia Mamma E niente ragazzi E quindi Nel prossimo video Ciao a tutti